Salus a 19 dicembre 2011. Per favore, non lasciatevi distrarre dalla lettura di incidenti provocati da operazioni degli oscuri, ma concentratevi invece sull'anno 2012. Come state scoprendo, stanno attaccando a zero con un'ultima, disperata sfida, che non darà loro alcun risultato. Ora che avete capito il loro modo di agire, siete in grado di evitarne le conseguenze, intese soprattutto a provocare panico. Ormai conoscete i loro metodi e siete diventati molto più perspicaci, tanto da privarli dei risultati, che si prefiggevano. Noi della Federazione Galattica facciamo la nostra parte proteggendo chi di voi è minacciato e, in alcuni casi, siamo apparsi loro personalmente per rassicurarli. Siate certi, che conosciamo tutti gli operatori di luce, che con l'aiuto delle loro guide, sono diretti lungo un percorso, che raramente dà luogo a scontri. Questi non sempre possono essere evitati, ma accade che gli oscuri e non noi, abbiano la peggio. La pubblicità, che ricevono è utile, perché rivela la natura del loro modus operandi e contribuisce a farli riconoscere. Fino a poco tempo fa, eravate pronti ad accettare qualunque cosa le autorità vi dicevano ed esse hanno approfittato della vostra fiducia ingannandovi e svolgendo attività segrete contro di voi. Ma adesso, quasi quotidianamente, state apprendendo la verità su molti avvenimenti organizzati dagli oscuri, dietro la copertura di attività legittime. La verità è molto più grave di quanto veramente sapete e nei prossimi mesi sarà rivelata, affinché la storia possa essere riscritta in modo corretto. Vi sarà presentata in modo tale che nessuna montagna di dinieghi potrà cambiare i fatti e le prove, che vi daremo a sostegno. Di tali prove abbiamo anche bisogno per suffragare le azioni programmate, che vedranno molte persone autorevoli rimosse per aver partecipato a crimini contro di voi. A questo punto, la nostra preoccupazione è di rimuoverle del tutto legalmente e sostituirle senza perder tempo con persone della luce. In molti anni, abbiamo accumulato prove più che sufficienti per mostrarvi quali individui hanno mancato alla loro promessa di lavorare per il popolo, arricchiendosi invece rapidamente a sue spese. Potremo, quindi, largamente fare a meno di lunghi e verbosi dibattiti, per i quali non c'è più tempo bastante. Non di meno, sono stati commessi contro di voi crimini di tale gravità, che alcuni individui saranno processati, affinché tutta la portata delle loro colpe sia rivelata. Come potete immaginare, tali individui appartengono agli illuminati e hanno perpetrato i piani per portare la razza umana in totale stato di schiavitù generale. Ovviamente, con l'avvento tanto prossimo dell'ascensione, essi saranno infine rimossi e trascorreranno il tempo in un livello adeguato, il cui potranno riflettere sulle ripercussioni delle loro azioni su milioni di persone. Per quel che li riguarda, nulla è perduto, ma il loro cammino di ritorno alla luce sarà lungo e difficile. In tutto il mondo, gli operatori di luce stanno vedendo il frutto del loro lavoro nel portare la luce sulla Terra. La gente si sta svegliando a ritmo accelerato, certamente percependo le nuove vibrazioni che sono riversate sulla Terra e che hanno l'effetto di spazzare le ragnatele che offuscavano loro la vista. Adesso, la verità sta cominciando a risuonare ovunque e gli interrogativi posti sono quelli cui voi, operatori di luce, potete rispondere. Presto o tardi, la questione di quel che vi porterà il 2012 dovrà essere discussa, perché circolano voci di ogni genere sulle numerose interpretazioni del calendario Maya. La risposta più importante riguarda la fine del tempo, che non pochi interpretano alla lettera come la fine del mondo. La gente informata, che si è preoccupata di studiare a fondo l'argomento, ha correttamente concluso che la fine si riferisce soltanto al termine del ciclo della dualità. Inoltre, quelli che seguono i nostri messaggi, sanno che questo significa anche l'inizio ufficiale della nuova era, giustamente definita l'età dell'oro. Ogni anima è invitata a partecipare, ma la scelta del libero arbitrio sarà rispettata per tutte. Tutti hanno l'opportunità di ascendere, ma devono volerlo e accompagnato dallo sforzo di vivere la luce nella vita quotidiana. Dovreste essere in grado di percepire interiormente se avete iniziato questa esistenza terrena per raggiungere tale obiettivo e, di conseguenza, vi rendete conto che detta esistenza è un'illusione che desiderate superare per progredire oltre. Nel prossimo anno l'attività aumenterà e sarà quasi impossibile per un'anima attraversarlo senza essere conscia di quel che sta accadendo. Ovviamente, noi saremo in prima linea per la maggior parte degli avvenimenti e contiamo di iniziare presto a presentarci a voi, affinché nasca tra noi una relazione più stretta. Siete pronti per riceverci e, con il vecchio mondo, che sta crollando attorno a voi, sappiamo che saremo accolti con gioia. Potremo allora aiutarvi a ripulire la confusione, che avete creato, e poi porvi decisamente sulla via dell'ascensione. Tempi felici vi attendono dietro l'angolo e la vostra pazienza, messa a dura prova, sarà ampiamente ricompensata, giusto appena un pochissimo di più, carissimi, e le promesse che vi abbiamo fatto si manifesteranno nella vostra realtà, e gusterete la vittoria per la quale avete lavorato da eoni di tempo. Nulla accade per caso e la vostra liberazione dagli oscuri fu pianificata prima che iniziasse il ciclo di dualità. Non dimenticate che il tempo, quale voi lo concepite, esiste solo sulla Terra, e che le vostre esistenze nelle vibrazioni inferiori si svolgono nel tempo lineare. Di fatto, tutto esiste nel presente, e per questo potrete ritornare in qualsiasi periodo del passato e riviverlo. Per questo motivo, quando riesaminate le vostre esistenze, esse non saranno soltanto realistiche, ma del tutto reali, fino al punto da percepirne i suoni, gli odori e le emozioni. Non potranno esserci errori possibili nel rivedere le vostre esperienze e potrete anche capire perché avvennero. In molti casi, sono il risultato di karma risultante da una vita precedente e vi renderete conto se avete imparato le lezioni che intendevano impartirvi. Se la vita nella dualità, in complesso, sembra dura e insoddisfacente, ricordatevi che avete voluto questo tipo d'esperienza per favorire la crescita della vostra anima. Avete lasciato le dimensioni di armonia e pacifica coesistenza per espandere la coscienza, e adesso questo periodo è quasi del tutto terminato. Tutti aspettano il vostro ritorno, ma prima c'è la fase finale che concluderà le vostre esperienze terrene, e questo avverrà con una nota felice. Noi vi aiuteremo nel ripulire e preparare tutti a una conclusione meravigliosa ed esaltante. Io sono il siriano Salusa e, come dovreste ormai sapere, nutriamo per voi tutti un amore illimitato. Grazie Salusa. Mike Quincy Traduzione Costanza 2003